. T o barrata chiocciola IENP, grado minore di 1 di 6 o con accento circonflesso IET islandese XT minore di. KBS 2 TV o barrata X. Esclamativo rovesciato TT. Esclamativo rovesciato copyright news 1. . 12 barra verticale. Esclamativo rovesciato. . CHIOCCIOLA IENP CHIOCCIOLA AOE 2016 di 5 o con accento circonflesso 6 o con accento circonflesso o con accento circonflesso virgola EET islandese ACHIOCCIOLA grado A con di Eresi. . . CHIOCCIOLA T8 di A con di Eresi. . O barrata E grado di A1 di 5 o con accento circonflesso IET islandese T minore di DXP grado minore di Y con accento acuto barra rovesciata punto 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 A euro barra verticale OEA con di Eresi. . 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